Sarà decisamente il giallo il colore dominante di questo weekend a Pescara. Infatti per accogliere i grandi autori ospiti del Festival della letteratura del Brivido, anche le vetrine del Centro Cittadino si sono tinte di giallo. Si comincia giovedì 2 maggio all'Università d'Annunzio con l'inaugurazione e la presentazione del programma che poi dal 3 maggio pomeriggio si articolerà nel Museo Vittoria Colonna. La seconda edizione di Pescara Lucigiale sta per partire giovedì 2 inaugurazione all'Università d'Annunzio seguita poi da un convegno importante con relatori anche internazionali e poi dal venerdì pomeriggio, venerdì 3 maggio, si comincia con gli incontri con gli autori. Abbiamo lavorato sulla base di un'esperienza acquisita due anni fa con il primo festival di Pescara Lucigiale che è andato benissimo. Quest'anno abbiamo ospiti straordinari nazionali e internazionali una collaborazione con l'Università d'Annunzio di Pescara che ci regalerà convegni e dibattiti su temi interessantissimi sulla letteratura gialla, sui grandi protagonisti della letteratura gialla. Ospiti di rilievo, da Roberto Costantini, a Valerio Varesi, a Biagio Proietti, alla Lindbergh che è la nuova stella del giallo scandinavo, ingresso gratuito. Invitiamo la città di Pescara a partecipare, a darci una mano per mandare un segnale, inviare un segnale forte anche alle istituzioni che eventi di questo genere sono un regalo alla nostra città, alla nostra cultura, alla nostra capacità di fare cultura. L'ingresso è gratuito e ai genitori che volessero venire a trovarci, sollecitate i vostri figli perché la promozione della lettura e della letteratura è un dato assolutamente necessario per la crescita civile della comunità in cui viviamo. Abbiamo provato per la prima volta a coinvolgere il centro della città, le vetrine, il commercio anche qui per segnalare che c'è sempre un rapporto di coniugio tra promozione della cultura ed economia della città.